Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna, la giornata di venerdì ha visto un inizio per lo più soleggiato su tutta la nostra regione ma con nebbie diffuse su molte pianure. Poi nel corso della giornata la nuvolosità è aumentata sull'Appennino. Il weekend vedrà un inizio con cieli per lo più poco nuvolosi sull'Appennino mentre in pianura saranno ancora molte le nebbie che localmente persisteranno per buona parte della giornata soprattutto sulle avennate e lungo il corso del fiume Po. Sull'Appennino la nuvolosità tenderà ad aumentare con schiarite soprattutto al mattino sulle zone orientali. Per quanto riguarda le temperature avremo un lieve aumento, minimi comprese tra più 2 e più 6 gradi mentre i valori massimi saranno compresi tra più 6 e più 10 gradi, ventilazione debole, mare calmo. Poi anche la giornata di domenica vedrà una situazione simile con nebbie e nubi basse sulle pianure mentre in Appennino qualche timida schiarita si avrà però anche qui saranno molte le nebole. Temperature stazionate per ora è tutto, un caro saluto da Andrea Raggini.